musica 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 cosa c'è l'entruno? la foto dell'arruaggio scatata da me bellissima mentre sto a petto? musica 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 a parte il fatto tu a parte il fatto che Mi sono accingiato gli orecchini Vi volevo dire Comunque Che sto notando Che il mio profilo Mi stanno seguendo tantissimi Ragazzi E infatti sono davvero felice per questa cosa E per strada mi fermano molti ragazzi E veramente sono Felicissimo di questa cosa Quindi vorrei per tutti i pischelli che si sono fatti la foto con me in quest'anno Qualsiasi Anche se sono dei 5 mesi fa le foto Taggatemi nelle storie Che vi è riposto Io dici te Un anno al post del tatuaggio è scattato da me È fantastica Però non spittatevela troppo perché è a petto nudo Ed è mio Ciao Solo 15 minuti E la foto fighissima Ragazzi Ok Dei tatuaggi Volevo soltanto precisare delle cose Prima di tutto Non siete nessuno Per Permettervi di giudicare Il significato del tatuaggio che mi sono fatto Che comunque Tutto 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 Sul